Aule igienizzate e sanificate, alcune ritinteggiate, nuovi arredi e distanziamento assicurato. L'Istituto Superiore Racchetti da Vinci sta lavorando a lacremente con tutto il personale per accogliere gli studenti il 7 gennaio prossimo, giorno in cui è prevista l'aria apertura delle scuole. Una nuova organizzazione e turnazione garantirà alla popolazione scolastica di avere il 75% degli studenti in presenza e in sicurezza. Le classi che rientreranno, secondo turnazioni prestabilite, saranno al 100% in presenza perché la sperimentazione della didattica mista nella stessa classe, adottata a settembre, aveva generato qualche difficoltà. Noi garantiremo il 75% della frequenza su tutto l'Istituto in presenza e ci stiamo organizzando per permettere una turnazione solo su due settimane alla nostra popolazione scolastica che conta poco più di 1200 alunni. Garantiremo una turnazione che salvaguardi in particolar modo le prime classi e le quinte classi per ovvie ragioni, a cui si aggiungeranno, a seconda della turnazione, le altre classi. A Crema le elezioni, a differenza di Cremona, inizieranno per tutti con un ingresso unico, generalmente alle 8 e 10, a rendere possibile l'accoglienza di tutti gli studenti nella stessa classe in presenza, l'arrivo dei nuovi banchi dal Ministero dell'Istruzione è tanto contestati che per le scuole con aule poco capienti hanno fatto la differenza. Banchi che sono arrivati in sede la prima settimana di novembre sono state di estremo aiuto perché hanno incrociato il nostro problema dell'angustia di certe aule. Ora la speranza è che davvero tutti gli studenti possano ritornare a scuola il 7 gennaio. A loro sono rivolti gli auguri del dirigente. Quindi una dose di ottimismo per il 7 gennaio, per riprendere un anno che sia di ritrovata serenità, di ritrovata di straordinaria ordinarietà. Auguri a tutti.